La collaborazione virtuosa con le Camere di Commercio regionale ha ottenuto e tagliato ulteriori traguardi. Siamo molto soddisfatti di aver affidato alle Camere di Commercio la gestione dei fondi relativi agli aiuti sociali che abbiamo impostato fin dall'inizio di questo mandato elettorale per le persone coinvolte nei fallimenti di Cooperative Operaia Trieste e Copca. Il risultato è stato evidente sotto gli occhi di tutti perché con efficacia e immediatezza e con semplicità abbiamo garantito queste risorse nei conti correnti delle persone soprattutto più fragili che avevano perso il loro patrimonio. E poi la sfida è continua e la collaborazione è stretta con le Camere di Commercio soprattutto per quanto attiene il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'occasione storica per la crescita del nostro territorio regionale dove ancora una volta le Camere di Commercio sono partner imprescindibili per tagliare questi traguardi.